Grazie a tutti. Hai visto che l'Inter vuole? L'ultimo e poi dopo se ti prendi la maglia e la terza maglia, guarda che maglia c'hai. Inter con la terza maglia, quella nera. Inter con la terza maglia, quella nera. Ha un caldo della Manola questa berretta. Man of the match, lo dico prima, Arturo Superduro. Vai Marcellino, vai Marcellino. Marcellino Panevino. Django, come lo vedi oggi Django? Django guarda, mi sembra abbastanza... Carico. Dai, carico, carico. Ammolla. Bra, bravo il cazzo, bravo. De Vrai, si fa ciullare il pallone, stranamente, non è da De Vrai. Fa un freddo e non dico la parola. La nebbia agli articoli, piovì girando sale. Come diceva Dante Alighieri, non era Dante. Come che c'è? Diciamolo, diciamolo. Diciamolo. Se no da casa. Oh, è il Diorante! Fallo. Fallo. Regola del vantaggio. Che cross croccante. Cambio di gioco croccante. Cambio di gioco croccantissimo. Calcio d'angolo per l'FC internazionale. Sul pallone ci andrà a calciare la Cialagano. Applausi per Cialagano mentre si dirige per la bandierina. Calcio d'angolo croccante. È basso. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Interna, ale. Verisic. No, che cazzo. Rossaccio di Perisic. Faccio il fumetti. Purtroppo non la nome. E fallo! L'ha fischiato. Un quarto d'ora di ritardo. Ha richiesto. Se non glielo dicevo io non l'ho fischiato. Azione elaborata, manovrata. È un po' artefatta. Si può dire azione artefatta? Artefatta. Palla filtrante. Credo bestiale. Qui, ragazzi, urgono i guantini. Oh! Oh! Colpo di testa direttamente tra le braccia di Batman andano. Mentre è il momento dei guantini. Oh! Madonna, c'è croccante. Madonna, c'è croccante. Oh! 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 Ma è il rigore! Oh! 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 Ma è il rigore! Questo è calcio di rigore. E' una mano netta, eh! E' una mano clamorosa. E' una mano clamorosa. E' una mano clamorosa. Ma come cazzo fai a non dare un rigore così? Oh! Oh! Brozovic ha tirato a Rossano. Ma perché non ha dato il rigore? E' una mano clamorosa. E' una mano clamorosa. Farlo sia. Oh! Dai, calma. Cialda, Gekko, Arturo Superduro, Ivan Pericic, Bastoncino Fintus, che si propone. E glielo dà Ivan Pericic, Bastoncino Fintus, che guadagna il calcio d'angolo croccante. Che guadagna il calcio d'angolo croccante. Calcio d'angolo croccante. A cancia la nobile, a cancia la nobile, a cancia la nobile. La specialità della casa. Ragazzi, era croccantissimo. Vai la casa. Ragazzi, cerchiamo di portare a casa sti tre punti e poi ce ne andiamo in vacanza. Alle Bahamas. Tu dove vai? Torno giù in Puglia. Noi torno in Puglia. Io vado all'Io di Savio. Ehi, Romagna. Al mare. Arrivedo in giorni. Al mare. Tu pensavi a Rio. Oggi mi sa, da partita complicata. Rischio. Bene, si ci fa sul fondo. Vai Ivan, vai. Ribatte di testo a un giocatore del Torino. Guadagniamo una rimessa laterale. Battuta subito. Vai Lautaro. Vai. Ribattuta da un giocatore del Torino. Il tico di Lautaro. Mentre nel Torino si scalda Ansaldi di fine stagione. Ansaldi di Natale. Vai, vai Bastoncino. Bastoncino. Davanti al portiere. Si è fatto rimontare all'ultimo. Bastoncino Findus in posizione di attacco. Ma è calcio d'angolo. Oh, questo portiere, questo arbitro non vede un cazzo, non vede. Cioè, gli devi dire tutto, gli devi dire. Bastoncino Findus dal rilancio di Andanovi si è trovato in posizione di attaccante. A due per due col portiere si è fatto sporcare il tiro sul più bello. Calcio d'angolo croccante. Ma lì Bastoncino. Da rilancio di Andanovi. Ancora Bastoncino. Ancora Bastoncino. Fallo di Skriniar. Su, mi pare, Singo. No, non è Singo. Vedi? È Olaina. Olaina. Mi dicono dalla regia che è Olaina. Amici. Grazie. Interpassa la bene sta palla. Dio santo, Dio. È Natale. È Natale. Dai, Giango, vieni. Bellissimo stop di Lautaro che dà la palla indietro a Brozovic che arrivava a rimorchio di sinistro. Parata facile di Milinkovic-Savic. Dio santo, Dio, vieni. Coratorio in avanti Prova uno scambio In anticipo molto bene Fa stoncino a Felix Vai Marcellino Panevino Che prova a innescare il contropiede La dà a Dzeko Dzeko Punta l'avversario Entra in area La dà Marcellino Django Django E' sforciato Django E' sforciato Django E' sforciato Django Duk Riz Duk Riz Duk Riz Duk Riz Duk Riz Duk Riz Tra l'altro Tra l'altro Django Che io ho sempre difeso Giocatore nella quale Io ho sempre creduto Vero? Assolutamente 100% Secondo tempo Importantissimi Sti tre punti ragazzi Un bel bicchiere di vinello A fine del primo tempo Con questo freddo Ti scalda il cuore L'animo Ti scalda il cuore Mamma mia Simone Stop di tacco Iceman Dio Non posso smadonnare a Natale Dai Così è Ma le braccia di andare Che l'ha aspettata Fino all'ultimo Finchè non ce l'aveva in mano La palla ha rimbalzato La palla ha rimbalzato Si erano affiondati i giocatori del Torino Butta su sto pallone E' finita Terza mia presenza a San Siro Terza vittoria dell'Inter Portiamo fortuna Andiamo avanti così Salutate la capolista E ricordatevi sempre Spat e cazzo del percorso Ciao